Già sa che ha migliaia di lavoratori sottopagati e precari, già sa che è uno spazio che riproduce rassismo e colonialismo, già sa che è uno spazio che si spaccia per l'inclusivo, ma in realtà è uno spazio classista che lascia migliaia di studenti dentro casa, non sono qui per un dibattito, ma neanche se ce l'ho io ce l'hai anche tu, questa è la mozione che è stata approvata, se volete leggerla per sapere che è stato l'inclusivo. E poi niente, confronto, tanto democratico, però il confronto con gli studenti no. E poi niente, confronto, tanto democratico, 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 tanto democratic Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.